Le imprese che stanno lavorando tutte per questo sesto mercatino del Calcite e qui abbiamo un rappresentante della ditta CDAS, Franco Mazzi, che è il polmone, il cuore di questa iniziativa, davanti al suo stabilimento si svolge un po' tutto il mercatino. Lui mette a disposizione la corrente, mette a disposizione l'acqua, mette a disposizione i bagni, mette a disposizione le tavole, mette a disposizione le panche. Un sesto mercatino che si prevede importante. Credo che sia importante come tutti i mercatini dei Calcite perché il Calcite ad Arezzo è una grande realtà e credo che tutti noi dobbiamo sentirci partecipi di questa grande organizzazione che mette a disposizione tante belle cose per la nostra città, cose molto importanti e quindi credo che ognuno di noi deve fare il massimo per poter riuscire a tenere in piedi questa organizzazione e a dare il massimo per questa organizzazione. Lo facciamo veramente volentieri, lo facciamo con tanto entusiasmo, con la speranza che il tempo ci rega e ci diano sempre un grosso risultato come tutti gli altri anni. C'è anche la corsa di tanti giovani quando si hanno chiamati i nostri ragazzi e qui abbiamo Claudio, che è colui che va, è il corriere, che va a ritirare la merce da queste fabbriche che sono veramente valide e brave. Claudio? Sì, senza dubbio, prima di tutto va un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato qualcosa per noi, per promuoverla, qualsiasi cosa, hanno fatto fabbriche dei salti mortali, questo ci tengo a ringraziare tutti. Dopo, certo, ci vuole il nostro tipo di lavoro e lo stai bene. Fenerosissima, quindi si ringrazia da questo microfono tutti, diciamo sì, le imprese locali di Ceciliano, le aziende, negozi che hanno contribuito in maniera veramente enorme. Senza dubbio, ma non solo a Ceciliano, anche qui nelle zone limitrofe ci hanno dato una grossa mano. E quindi noi la mano la chiediamo a nostri amici, non soltanto di Ceciliano ma di Arezzo, venire a questo sesto mercatino, ci saranno tante cose belle veramente, non soltanto per gli adulti ma anche per i bambini. Ci vediamo a Ceciliano, zona commerciale.